Allora, sono molto contenta di aver partecipato a questo progetto a Nature Concrete, che è parte di Lazio Street Art. Allora, ho iniziato il progetto della mia parte del muro, cercando delle informazioni su questa zona, sul Lazio, su Roma, su Frascati in generale, perché non essendo di questa zona non conosco molto, e mi ha colpito questa storia dei tre alberi sacri, delle tre piante sacre che c'erano piantate nei fuori umani, che sono il fico, l'ulivo e la vite, ognuna era sacra a una divinità in particolare, mi piace molto la mitologia e tutta questa parte un po' più mistica e spirituale, e quindi ho cercato immagini di questi alberi e in Photoshop li ho più o meno uniti e cercato di sintetizzare attraverso strumenti digitali, per poi avere una foto in generale di tutta questa parte con questi alberi, e indietro ci ho aggiunto dei cipressi, che sono degli alberi che mi piacciono particolarmente perché li vedo come una cosa di benvenuta, e questa zona è piena di questi alberi, quindi mi sono ispirata dalla vegetazione. Sono molto contenta dell'unione che siamo riusciti a raggiungere dopo vari tentativi, io e Goffi nella nostra parte di Murales perché alla fine lui ha deciso di mettere cose che sono più parti del mondo del graffiti e dello street art, mentre io sono un po' più muralista e istituzionale, quindi è una cosa secondo me bellissima perché il graffiti è un elemento super importante dell'arte urbana e dello street art che purtroppo spesso viene, come sai, criticato. L'incontro con Federica è stato unico, diciamo, nell'esperienza di graffiti non ero mai interfacciato con una figura artistica di questo tipo, e vedere mano a mano che quello che il muro prende lei riesce a trasformarlo in figure, seppur astratte, comunque in figure ben definite. Non riuscivo ad integrarmi e a sfumare il mio stile sopra e sotto al suo. Abbiamo cercato di allargare la visione sia delle macchie di Federica sia del mio mondo dei graffiti e delle bombolette. Il colpo d'occhio è interessante, paradossalmente questa parete mi piace più di quella che ho fatto. Io sono Angelo Tobia, vivo in questo quartiere, questo è un quartiere che ha tante possibilità passate, presenti e future. Una fondamentale è quella di recuperare parti del degrado che c'è in tante situazioni, perché alcune parti di questo quartiere sono del dopoguerra, con questo tipo di espressione, perché questa è l'unica forma di arte contemporanea al mondo presente, attraverso i muri degradati, spogli, che non dicono niente, che sono inutili, apparentemente inutili, così diventano forma d'arte che possono comunicare a tutti, anche alle persone che non sanno niente dei Pollock. Grazie a tutti.